Buongiorno e benvenuti sul nostro canale. Continuiamo oggi, nella lettura del mio racconto, le avventure di pasticcio e tristessa, dell'episodio numero 11. Mara la giraffa. Buon ascolto. Era un pomeriggio rilassante per i leoni, infatti essi stavano riposando beati sotto il loro albero preferito. Tuttavia, pasticcio e tristessa, non vollero saperne di rimanere calmi e dormire, perciò Maika, la loro madre, insegnò un gioco che faceva da cucciola. Ascolta e indovina. Ai due cuccioli piacque molto questo gioco e insieme si divertirono moltissimo. All'improvviso, tristessa sentì uno strano verso nella valle dimenticata. Essa sapeva benissimo che suo padre Leopoldo gli aveva raccontato che quel luogo era proibito per ogni animale africano, poiché era pieno di pericoli. Ma incapace di obbedire, si avviò verso quella valle, allontanandosi dal branco. Una volta arrivata, tristessa, vede una piccola giraffa piangere in un vasto terreno sabbioso con sua madre. Tristessa, preoccupata, gli disse Perché piangi? Che cosa è successo? La piccola giraffa, di nome Mara, rispose Un gruppo di feroci animali hanno attaccato me e mia madre, facendoci dirigere in questo scuro paesaggio. Purtroppo siamo molto distanti dal nostro branco e temiamo per la nostra vita. Tristessa, piena di umiltà, dopo aver ascoltato la triste storia, aiutò le giraffe a tornare a casa, portandole lontano dalla insidiosa valle dimenticata. Le giraffe, una volta che ritrovarono il loro branco, ringraziarono Tristessa, la quale fu felice di avere delle nuove amiche. Questa è Mara, la piccola giraffa, sua madre e Tristessa. Bene, vi ringrazio dell'ascolto, lasciate un like se vi è piaciuto. Grazie alla prossima. Ciao da Simone. Ciao!